E un'altra tragedia ci fa rimanere sempre nell'Aquilano, esattamente a San Benedetto dei Marsi, dove è stato trovato purtroppo senza vita sul fondo di un canale della Piana del Fucino il giovane Manuel Di Nicola di San Benedetto dei Marsi, che da due giorni aveva lasciato la propria abitazione facendo perdere le sue tracce. Autotrasportatore, 33enne, padre di famiglia, dopo lunghe ore di incessante ricerca a luna di oggi, di questa mattina, i sommozzatori dei vigili del fuoco del nucleo di Roseto hanno ritrovato il corpo sul greto di un canale, a circa un chilometro dal punto in cui era stata rinvenuta l'auto con la quale il giovane si era allontanato. Alle operazioni di ricerca attivate dalla Prefettura hanno partecipato oltre ai vigili del fuoco anche tra gli altri carabinieri e volontari della protezione civile.